Senatori presenti 245, senatori votanti 244, maggioranza 123, senatori favorevoli 173, contrari 71, senatori astenuti 0. Il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge. Restano altresì assorbiti i disegni di legge numero 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763, 2069 e 2084. Nella giornata di martedì 1 marzo alle ore 15 è convocata la conferenza dei capigruppo per concordare il calendario dei lavori.